Ciao amici, siamo qui con il chief leader del final table del GPT di San Marino, Paolo Zambito, a cui rivolgiamo qualche domanda. Innanzitutto cosa hai pensato quando sei rimasto short a due tavoli left con il colpo che ha fatto a porto da una donna, con Carlo Braccini? Innanzitutto un saluto a tutti gli amici, ero messo veramente male, la vedevo brutta brutta brutta, però alla fine è successo questa mano, io ho KK, faccio l'in, colla, preflop, con dama dama mi prende il tris e come se mi crolla il mondo addosso. Poi attraverso alcune mani ci siamo ripresi un po' e adesso con l'ultima mano, che anche lì mi è cascato il mondo addosso perché io puscio con asso donna di quadri, fide di lui col con 19 e prende il 10 a tarne, meno male che arriva l'asso del river che salva la boia di salvataggio. Un'altra domanda, ho visto parecchio tipo con te. Sì, siamo un bel gruppetto di amici che siamo venuti giù dalla Sicilia e bene, bene, la Sicilia tutti mi chiamano, tutti mi guardano, forza Sicilia, tutti sono con me, mi fa veramente piacere, ho un sacco di amici qua. Un po' le aspettative per domani? Io sinceramente non avevo proprio messo in preventivo nemmeno di superare il primo giorno. E' la prima volta che partite. Sì, perché nonostante tutto è il primo torneo che faccio live e quindi mi sono ritrovato qua, però adesso dai ci siamo, adesso ce la giochiamo, mi ci metto di impegno e sono fiducioso, ce la voglio fare. Allora, un saluto da Mattia e da Paolo, il chip leader del Panate Ball. Grazie, grazie, un saluto a tutti.